Musica Perché partecipare a Miss Mamma? Ovviamente perché sono una mamma, ho una bambina di 12 anni e è sempre stato il mio sogno, ho partecipato a un sacco di concorsi. Poi dopo ovviamente con la bambina non ho potuto più e ho approfittato dell'occasione. Cosa ti ha detto la tua bimba? Beh lei era contentissima, voleva venire a vedermi però essendo un locale notturno dopo si fa troppo tardi. Consigli non me ne ha dati, mi ha detto mamma te sei bellissima quindi in bocca al lupo. Musica Non so, spero di essere abbastanza sensuale, il fisico c'è, comunque la bambina l'ho avuta giovane quindi sono giovane, quindi qualche carta a mio vantaggio c'è. Ho fatto qualche sfilata quindi un po' di esperienza sulla passerella ce l'ho. Musica Sabrina la prima Miss Mamma te l'aspettavi? No, guarda non me l'aspettavo proprio e comunque sono molto contenta e soddisfatta a questo punto. Non è la prima volta che sfili giusto? Ho già partecipato ad altri concorsi e anche sfilate però era un po' che ero ferma soprattutto con i concorsi e comunque è una soddisfazione dopo tanti anni vincere un altro concorso. Ti sei emozionata, ho visto scendere una lacrima. Ecco, la cosa bella è che io tutte le volte che salgo impasserò la mia emozione, è più forte di me. Ciao a tutti, sono Sabrina Caputo, vengo da Uboldo, provincia di Varese. Vi saluto, un bacio grande, anche alla mia bimba. Vi saluto, un bacio grande, anche alla mia bimba. Ciao a tutti. Grazie.